Buon pomeriggio, ci ritroviamo qui alla Mediateca Montanari e all'interno dell'evento Storie straordinarie in tutti i sensi. Già domenica scorsa abbiamo trattato un altro argomento, sempre con la professoressa Salis, si è fatto un focus sul ruolo della donna nell'ordinario ma nella sua straordinarietà del fare. Oggi pomeriggio invece si tratterà un argomento molto più mirato che è il ruolo del pedagogista clinico soprattutto nel rapporto fra privato e sociale. Quindi la GFH insieme al CDH anche quest'anno si sono attivate per dare uno spazio di approfondimento sempre in un'ottica di sviluppo della cultura sulla disabilità. Quindi mi auguro che questo incontro sia l'inizio di un ulteriore percorso di approfondimento. Quindi grazie e buon pomeriggio. Una domanda specifica sul suo ruolo, su quelli che sono i suoi obiettivi, su quelle che sono le sue mansioni da pedagogista. Grazie. Allora, salve a tutti. È sempre un piacere stare a Fano qui con voi. Allora, il mio ruolo mi consente di ricoprire diverse specifiche mansioni. Allora, io sono una formatrice, quindi come pedagogista formo in primis gli insegnanti. Lavoro tantissimo con le scuole, quindi faccio dei lavori in relazione alle esigenze specifiche che ogni scuola manifesta, richiedendo appunto il mio supporto. Accompagno le famiglie nei loro percorsi di genitorialità, quindi qui nella mia mansione di pedagogista libera professionista e ho in carico tutte le persone che si rivolgono a me per una stragrande maggioranza di problemi. Ci sono molteplici aree. Mi occupo fondamentalmente di disabilità perché la mia specifica preparazione riguarda appunto l'area della disabilità, ma seguo anche adolescenti che hanno problemi con la scuola, seguo ragazzi che hanno avuto problemi di bullismo, seguo delle famiglie che non riescono a trovare una rotta educativa, seguo anche degli adulti che hanno necessità di riposizionare i loro vissuti in qualche modo. Lavoro talvolta anche per le aziende, perché la pedagogia e la didattica di cui io mi occupo sono scienze di tutto l'arco della vita e di vari contesti, come avrò modo di dire stasera, perché appunto l'educazione non è un fatto che riguarda soltanto le prime fasi della vita, ma ci riguarda sempre. Quindi diciamo che mi occupo di diverse cose e queste sono in sintesi quelle principali. La ringrazio. Niente, in ultimo le volevo chiedere un'ultima cosa, cosa le dona questo suo lavoro, queste sue mansioni a livello emotivo? Cosa prova? Questa è una bellissima domanda. Cosa provo a livello emotivo? Allora io provo la consapevolezza di fare un lavoro molto bello, è un lavoro che volevo fare, provo l'orgoglio di fare una professione che seppur non molto conosciuta e riconosciuta, comunque è veramente appassionante e la passione è proprio il filo che insomma mi trasporta, perché mi piace moltissimo lavorare con le persone e mi piace molto anche avere la consapevolezza che per quanto io do ricevo, quindi io cresco con le persone che aiuto a crescere e questo è bellissimo. Come agisce il pedagogista nei confronti della persona? Il pedagogista è una figura che finora non è stata adeguatamente valorizzata, tanto è vero che nelle diverse regioni italiane ha un ruolo differente a seconda dei piani socioassistenziali e sanitari che appunto le varie regioni nella loro autonomia hanno deciso di formulare. Il pedagogista in realtà ha il ruolo fondamentale della regia dei processi educativi e formativi, non soltanto a livello scolastico ma in tutta l'età della vita della persona. Particolarmente il pedagogista clinico è una figura particolarmente formata per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie, dei genitori, ma non soltanto, anche delle persone nelle varietà della vita. Qual è il ruolo del pedagogista clinico? Nell'incontro di stasera io focalizzerò proprio il ruolo del pedagogista nella sua accezione più ampia, soprattutto dopo l'approvazione recente della legge Iori che ha ridato un ruolo professionale, che ha assegnato un ruolo professionale a queste figure. Il pedagogista clinico è un pedagogista specializzato, cioè così come un medico ha una specializzazione nelle varie branche della medicina, così un pedagogista non è un pedagogista generico, ma è un pedagogista che acquisisce, il pedagogista clinico acquisisce una competenza, una professionalità che gli consente di gestire tutti gli strumenti per accompagnare le persone e le famiglie in un percorso di benessere. Grazie ad averci concesso questa intervista.